Monte Cosaro, Basilica di Santa Maria a Piedichinti, è stata retta nel X secolo ed è un esempio di architettura cronicense, che sempre romanico è, con la parte psidale in stile a Bordognone. E' stata poi dichiarata Monumento Nazionale nel 1902. L'attuale forma è frutto di molte modifiche e rifacimenti, le più importanti nel XII secolo e quella dell'inizio del Quattrocento quando è stato dipinto il ciclo di Affreschi. Su tutto domine l'imponente e eratica figura del Cristo Pantocratore, particolare, molto particolare, e la bellissima parte apsidale, costituita da due apsidi semicircolari sovrapposte con quella di base più grande che presenta tre eleganti cappelle radiali. E queste mi hanno molto affascinato ed ho molto fotografato. Quattrocento 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 Quattrocento